Sindaco, oggi, soprattutto in questa giornata, ma anche in quelle precedenti, assistiamo alle vaccinazioni dei cittadini over 80. Una grande organizzazione sta filando tutto nel migliore dei modi per il verso giusto. Tutto sta filando per il meglio. Abbiamo riscontri positivi anche da parte di coloro che si sottopongono al vaccino, oltre che ai medici e gli infermieri, ma anche all'ASL stessa che ha preso la nostra città e questa struttura come punto di riferimento a livello anche provinciale. Abbiamo effettuato nelle scorse settimane una prima parte di vaccinazione riguardante il mondo degli ultraottantenni. Poi abbiamo proseguito con tutto il personale scolastico, il mondo scuola a livello provinciale. Oggi ripartiamo con gli ultraottantenni, ma nel pomeriggio ultimeremo, sempre per quelle di sguardo del mondo delle scuole, la vaccinazione del mondo scolastico. Domani sarà il turno dei volontari di protezione civile regionali. Stiamo cercando di coprire il più possibile le più disparate categorie di soggetti che l'ASL ci indica man mano che passano i giorni. Avete anche allestito un posto di primo soccorso proprio qui alle nostre spalle con delle ambulanze. Nel caso dovesse servire qualcosa c'è anche un intrattenimento musicale? Sì, assolutamente. Abbiamo pensato un po' a tutto, anche di concerto con l'ASL. È evidente che l'attesa, i 15 minuti di attesa dopo la vaccinazione servono qualora qualcuno avesse dei problemi, dei disturbi. E quindi è inevitabile la presenza di un'ambulanza che possa intervenire qualora questo accada. Ma abbiamo pensato anche ad aglietare questa attesa grazie anche alla scuola civica di musica e di teatro di Montesilvano che ha sede proprio all'interno di questa struttura. E anche questo sta riscuotendo tanto consenso da parte dei cittadini perché al di là del momento che stiamo vivendo, insomma, al di là di quello che rappresenta il vaccino, poi regalare un momento di dispensieratessa è sempre qualcosa di gradito.